fare un progetto con lo studio habits significa tre cose 1 inserire dell'intelligenza nella soluzione tecnico estetica del prodotto 2 dare all'utilizzatore un senso di meraviglia nel primo utilizzo dell'oggetto perché l'utilizzatore riconoscerà questa intelligenza 3 far fare un passo in avanti all'azienda al produttore nello stato dell'arte del settore industriale in cui opera il motto dello studio habits è logica per arte in cui per questa preposizione è usata in senso latino cioè per mezzo di attraverso questo perché noi crediamo molto nel connubio tra estetica scienza per saper fare l'architettura di questa pirulana è peculiare perché perché ha una costruzione a z cioè costituita da due piani quello superiore e quello inferiore l'interfaccia e il tappeto e un sistema di connessione questo sistema di connessione a z permette in due casi d'uso del prodotto la grande superficie dedicata all'interfaccia comunica una nuova esperienza dell'oggetto di spazio per la corsa io vedo una grande futuro nei progetti dell'azienda ciao ciao perché il gruppo di lavoro ha capacità di raccogliere la sfida di innovazione